Musica Beh, Hakone, io devo andare Appena il caso sarà chiuso, mi prenderò delle ferie Che ne dici se andiamo da qualche parte? Magari in un parco divertimenti? Non sono più una bambina Ok, ti chiedo scusa Merda, non ci siamo A cielo, sistemare le cose tra questi due non sarà facile Forza, si sincera con lui Smettila, per favore, non ti intromettere Tieni ancora il broncio? Su, non pensi che sia ora di lasciarsi alle spalle questo comportamento da zundere? Futabachan, ti ci smetti anche tu Dai, non fare così Se riusciamo mai a ricongiungere veramente padre e figlia Date loro del tempo Mi auguro davvero che troveranno il modo di rinsaldare il loro legame Ce la faranno, ne sono certa Vero, Akane-chan? Sì, immagino di sì È ora di andare Se aspettiamo ancora il traghetto partirà senza di noi Dobbiamo salutarci a quanto pare Stai bene, Akane-chan Oh, eh, grazie di tutto Ah, ecco, un souvenir da Kyoto Avete fatto tanto per me Quindi... L'appenderemo sul camper Il mini-ombrellino Promettimi di tornare presto Ma certo La prossima volta porteremo un sacco di cose buone da mangiare Staremo svegli tutta la notte a spettacolare Faremo anche un altro bagno insieme se vuoi Chiamami ogni volta che ne avrai bisogno Non vedo l'ora di risentirti presto Ah, ricevuto Fate buon viaggio Forza, salutatevi come si deve Sì, ecco Fa' attenzione Ah, tutto qui Ok, ma certo Starò attento Beh, pare che a lui stia bene così Vabbè, dai, è già qualcosa Siamo contenti Ed eccoci arrivati ad Okinawa Traghetto per Okinawa Ponte principale Wow, è meraviglioso È come una distesa infinita di zaffiri luccicanti Oh, mi viene da piangere Mi viene quasi da pensare che questa sia Quasi una citazione all'intro di Royale In cui loro si lanciano addosso diamanti, zaffiri Tutte le pietà preziose È una vera gioia per gli occhi Sarebbe ancora più bello Se fossimo qui semplicemente in vacanza Che ne pensi, Sofia? Bello, eh? Beh, dunque questo è il mare di Okinawa Che bellezza Com'è sotto la superficie dell'acqua? È molto bello Ok, spero di poterlo vedere con i miei occhi un giorno Viaggiare su una nave con i controcazzi come questo È proprio una figata, eh? Concordo, il mio spirito d'avventura è come eri nato Sento un impetuoso fremito di passione Ok, allora Non posso sprecare questa occasione Informazione, gente Ryuji, giù i carponi Come dici? E tu, Mona? Sopra la mia testa Ok Zenkiji fa... Ah no, pensavo, facci una foto Ma che... Cosa vedo nei miei occhi? Ammirate, tutto lo splendore di un vero classico dei poster cinematografici Cinematografici Enda... Non mi pare che fosse così E non è piuttosto una strana pose da cheerleader? La definirei piuttosto un'interpretazione dei musicanti di Brema Era proprio necessario Ehi tu, scendi lì lì, è pericoloso Però, senti uno più scemo dell'altro Oh, dieci punti è gratis Grazie, gioco Mi ha fatto molto ridere la cosa Qualche ora dopo Kukojima, Okinawa Ah, finalmente siamo arrivati Quel viaggio in nave non finiva più Sento ancora le onde sotto i piedi È stata un'esperienza più che rara Essere giricondati dall'abbraccio del mare e i suoi sfavillanti riflessi Allora è questa Kukojima, eh? C'è più gente di quanto mi aspettassi Già, io immaginavo fosse qualcosa di simile a un'isola incontaminata Fino a qualche anno fa in realtà questo era un posto piuttosto tranquillo Poi qualcuno aveva la bella idea di organizzare una specie di migrazione di massa C'era persino uno slogan La tua nuova vita ai tropici ti aspetta Tutto ad un tratto si passò da una popolazione di appena 200 persone a quasi un migliaio La zona del porto è molto vivace C'è quasi un aria da resort Le vacanze estive sono tornate Avanti, non siamo qui per cazzeggiare Per prima cosa dobbiamo trovare la struttura di ricerca Ha ragione, dovremmo cominciare da lì Vorrei iniziare a indagare il prima possibile Riecco i due poliziotti in azione Dai, togliamoci il pensiero Potremmo goderci il nostro tempo libero una volta che il caso sarà risolto Ora il nostro obiettivo è il laboratorio trovato dai cinose Ok, andiamo Da che parte? Dacci tutti i dettagli, Sofia Ehm... Che succede? Non ho trovato alcuna informazione riguardo alla struttura E come cacchio è possibile? Beh, stando ai cinose non sembra essere un'attività alla luce del sole, giusto? Forse dovremmo trovarla per i fatti nostri Mi spiace, non so come aiutarvi Se le cose stanno così dovremmo chiedere in giro e vedere se gli abitanti del posto ne sanno qualcosa E da dove cominciamo? Oh, magari i negozianti della zona ne sanno qualcosa Ne dubito Oh, ho individuato un negozio di souvenir Voglio prendere qualcosa sul giro Aspetta, Futaba Finisco a tenere la ricerca di prodotti dell'artigianato locale Ah, pare che dovremmo chiedere indicazioni se vogliamo trovare il laboratorio Pronto, commissario? Sono Asegawa Qual è la situazione? In genere non sparisci per tre giorni di fila Le vie scuse, ero in mezzo all'oceano Non c'era segnale L'oceano? Le indagini ci hanno condotto a Okinawa Pare esserci una struttura di ricerca legata a quell'app, Emma Era la migliore pista a disposizione Ho portato con me i ladri fantasma C'è qualche possibilità di trovare prove concrete da quelle parti? È troppo presto per dirlo Inizierò interrogando il personale della struttura Se dovessi scoprire che stanno cercando di coprire le loro tracce però Dovrò intensificare le indagini In tal caso avrò bisogno che mandiate dei rinforzi Bene, tienimi a giornata Dal canto nostro stiamo ancora indagando su Madissa Se dovesse saltar fuori qualcosa ti farò sapere Grazie signora Ricorda Segawa I ladri fantasma non servono soltanto a individuare il responsabile degli incidenti Se dovessimo essere costretti ad annunciare ufficialmente un colpevole Loro saranno lì con te e a portata di mano Quando verrà il momento dovrai consegnargli alla giustizia Vedi di non affezionarti troppo Intesi? Ricevuto Ah, quindi ci vuoi vendere, eh? Sono sicuro che non lo farai però Che storia Ci conviene incamminarci anche noi e vedere se riusciamo a rintracciare questo laboratorio di ricerca Inizio indagine Che palle non avere più il terzo occhio Però c'è la Venza Abbiamo anche quattro richieste La mia prigione parte 4 Porta la Venza a rigenerazione 1 con Mitra Consegna desiderio dimenticato Spazzino parte 3 Ok, sciarpa resistente Ok Tieni, te li do subito Perfetto Abbiamo ottenuto una sciarpa per Morgana E l'ultima cosa è riaffrontare Mariko Yodo Con spazzino parte 3 Otteniamo 50.000 yen a botta Porca troia Allora, abbiamo 20 punti Direi di sfruttarli al meglio Facendo la prossima richiesta che abbiamo appena sbloccato Sblocchiamo Forza legami livello 3 Ok Io allora quei 20 punti me li tengo da parte Faccio la missione e poi torno qui Anche se 10 punti ce li butterei sui saldi Ma preferisco di no Comunque dicevo che palle non avere il terzo occhio E vedere quali persone posso interrogare o meno Però vediamo se i negozi hanno qualcosa Oh, questo c'ha tutti gli ingredienti Ottimo Ottimo, grazie per i prodotti freschi Chiosco di bento Zuppa di capra Uh, un nuovo Una nuova ricetta Senti, ti dispiace se ti faccio compagnia Questa zuppa di capra mi incuriosisce Ho sentito dire che è molto nutriente ed energizzante Malgrado l'odore insolito È da un po' di tempo che volevo provarla Però, accidenti Ha un odore davvero curioso Meglio reggersi forte Forza, Haru Kumura Puoi farcela Haru e io ci siamo avventurati con la zuppa di capra Abbiamo deciso di non commentare il sapore Mi sento ispirato Chissà, magari riesco a farlo meglio Iniziamo a parlare con i nostri compagni Vediamo se sanno qualcosa Ah, ehi, scusa Non riesco a fare a meno di fissare l'oceano Potersi rilassare in un posto del genere sarebbe davvero fantastico Ho sentito dire che c'è un'enorme spiaggia pubblica qui vicino Spero che riusciremo a trovare tempo per andarci Speriamo tutti, allora Voi due, invece? Oh mio Dio Allerta scisa Non ne avevo mai visto uno dal vivo Wow, guarda quanti dettagli da vicino Ognuno ha un'espressione diversa Questi sono guardiani divini Che si dice proteggano da disastri A quanto pare quello a destra è un maschio Mentre l'altro è una femmina Ah, quindi ci sono una coppia Buona sorveglianza, signore e signora scisa Che carini Cieli infiniti L'oceano Il dolce infrangersi delle onde Il profumo della frutta fresca che si diffonde trasportato dal vento Questa non è una semplice attrazione turistica È un autentico paradiso naturale E guarda questo scisa La grandiosità del suo profilo Il dinamismo delle sue linee Oh cielo, ce lo siamo perso Si è innamorato Bene Aru, hai scoperto qualcosa oltre alla zuppa di capra? Mi sono imbattuta in un gruppo di locali piuttosto estroversi Per cui gli ho fatto un paio di domande Quando ho detto loro che ero di Tokyo Mi hanno dato questi Quelli si chiamano Meloni Amari O Goya in lingua di Okinawa Giusto Mi hanno detto di averli colti giusto questa mattina Guardate che colori sgargianti Scommetto che sono squisiti Magari potremmo cucinarli con qualcos'altro Mi piacerebbe vederti mentre fai i tuoi incantesimi in cucina Grazie Makoto? Chinsuku, Umibudu, Irabu Cosa potrei prendere come souvenir? Oh, scusa Ero sovra pensiero Ho provato a interrogare i negozianti Ma sono stati tutti molto evasivi Quest'isola non è troppo grande Però dovremmo riuscire a dividerci Per svolgere una ricerca approfondita Insomma, i miei compagni non hanno scoperto nulla Lei? Oh, arrivate da Sapporo Pazzesco Mi sorprende che siete giunti fin qui Qui in realtà non c'è niente di interessante Ma spero che vi troverete bene Eh? Un laboratorio di ricerca Che ne dite? Piuttosto di un giro in spiaggia Già, perché non fate così? Sono tutti molto evasivi Effettivamente Forse stanno tutti Clissando la domanda Ryuji, tu? Scoperto qualcosa? Non riesco a trovare nemmeno un negozio di soba di Okinawa Lo cercheremo più tardi Chissà se questi posti poi sono accurati al dettaglio Se effettivamente le strade sono fatte esattamente così Ehi Zenkichi Oh, ehi Ho sentito da un fattorino che qui c'è un edificio davvero enorme proprio da questa parte Wow, guarda che ho il sentiero Probabilmente è il posto giusto Erco Cosa vuoi fare, figlio Nix? Se abbiamo intenzione di indagare posso chiamare tutti gli altri al rapporto? Sì, per favore Va bene, contatto a tutti Indagine completata Wow, bastava che... Cioè, potevo andare dritto da Zenkichi ed eravamo già arrivati La struttura di ricerca è da questa parte Sì, credo di sì Un cordone sacro Quella roba non si vede solo nei santuari Che ci fa qui? Ci sono, devono aver intrappolato uno Yokao leggendario Però questo è un laboratorio Non dovrebbero esserci piuttosto degli zombie o roba del genere? Ottima osservazione Non diciamo assurdità Scherzavi, vero? Basta sciocchezze Questo laboratorio è nel mondo reale Andiamo Ehi Sofia, giusto per essere sicuri Non c'è nessuna prigione qui, vero? No, niente prigioni su quest'isola Almeno credo Credi? Non lo affiutavi tu? Già, dicevi di poter trovare le prigioni grazie all'odore Al momento non rilevo alcun odore Diversamente da Sendai e Sapporo Qui non avverto la presenza di alcuna prigione Tuttavia c'è qualcosa di anomalo in questo posto O, come si dice, una brutta sensazione Una brutta sensazione? Magari è una presenza spettrale carica di rancore Sto venendo a prenderti Smettila Non è divertente, Futaba Di qualunque cosa si tratti Dobbiamo andare a vedere E allora muoviamoci Siamo in vacanza, ciao L'attività rimane chiusa fino al 18 agosto A causa di impegni improrogabili Beh, questa non me l'aspettavo Ora possiamo indagare allora Già, se non c'è nessuno Possiamo infiltrarci e indagare quanto ci pare Ehi, niente azioni illegali Violare la proprietà privata è un reato Inoltre i tribunali non accetteranno prove ottenute tramite atti illeciti Renderebbe del tutto inutile il nostro viaggio Sì, lo sappiamo, ma... Il cartello indica il giorno 18 Quindi aspetteremo fino a domani Più semplice e meno illegale Non appena sarà tornato il personale Farò prendere aria al dispositivo e inizierò a fare domande Questo posto ha un'aria talmente losca Che basta ficcare un po' il naso per iniziare a scoprire qualcosa E quando avrò in mano qualche elemento Potrò annunciare l'inizio di un'indagine ufficiale A quel punto confischeremo tutto il necessario Capisco, un approccio piuttosto strategico Wow, ecco a voi tutto il talento di Zenkichi Detective privato Privato come no Sono una pubblica sicurezza Se ci tocca aspettare fino a domani vuol dire che abbiamo un po' di tempo libero Andiamo in spiaggia Ecco, lo sapevo Aspetta allora, possiamo andare a spassarci alla spiaggia È un'idea fantastica Ora Zenkichi dirà qualcosa? Già, non è il caso di spercare altro tempo Quando ci ricapita un'occasione del genere So via, stiamo lavorando a un caso, sai? In realtà non è una brutta idea Ficcanasando troppo potremmo dare nell'occhio Dobbiamo evitarlo a tutti i costi Con tutti questi turisti in giro Ci conviene tenere un basso profilo Quindi Andiamo a divertirci In spiaggia Sulla spiaggia bianca incontaminata Con Lady Anne E a coronare il tutto Un bel barbecue E a coronare il coronamento Aragosta Abbiamo un vincitore Facciamo incetta di provviste prima di andare all'avventura Ok, cerco i negozi più vicini O meglio, il negozio più vicino L'unico supermercato dell'isola è al porto Siamo tornati al posto e abbiamo fatto la spesa Chissà se c'era davvero l'Aragosta allora Chissà che fine ha fatto l'Aragosta di Yusuke Che ne dite di questo posto, ragazzi? Sembra proprio l'ideale per una festa in spiaggia L'acqua è di uno splendore ipnotico Sembra quasi irreale Ok, sistemiamoci qui Tutti al mare Ehi, aspetta Un momento Non avete messo la crema solare Mamma Magoto Ehi, ehi, ehi Non potete fare così Così come, Zenkichi Diamine Che razza di casinisti Togliti la cravatta, Zenkichi Non essere sciocco Vado nel camper a controllare delle cose Poi divertitevi pure Con quella espressione cigliata Sarei tu a destare sospetti, Zenkichi Se vuoi sembrare un turista Fingiti almeno di divertire Perché non provi a rilassarti per una volta? Stare sempre allerta Ti farà bene Non puoi perdere questa occasione, Zenkichi-san Non vorrei rifiutare l'invito di una bella signora, eh, Zenkichi? Eh, va bene Farò una pausa Ma, che non duri troppo, intesi? Eh, eh, eh Non sembri poi così dispiaciuto Eh, finiscila Portami con te, Phoenix Sarò la mia prima volta nell'oceano Al giorno d'oggi Gli smartphone sono del tutto impermeabili Ho controllato Può immergere questo telefono senza nessun problema Ti va? Ti farò da guida E vai Oggi ci si scatena Possiamo finalmente goderci Un assaggio dell'estate Mi aspettavo Morgana che corresse sulla spiaggia Io però, dai Oh, filmato animato Finalmente Ryuji? Ryuji dai Scena con Ryuji? Ecco, lo sapevo Ma che Zenkichi riposa Eh, la madonna Quanti pesci Quanti colori Ma dai Yusuke che guarda Le regoste Ma dai Che bella questa scena E' stata una scena divertente Questa L'ammetto Ah, il sole sta per tramontare Quindi che facciamo adesso? Grigliata? Eh? E' il tuo telefono Sta vibrando Ehi Hai un secondo? Sta pronta a muoverti Una volta che si saranno Calmate le acque Ok? Sono certo che andrà tutto bene E' solo Che ho questa strana sensazione Nello stomaco Hai finito di prepararti Per cosa? Insomma Non mi sembra il caso Di essere sempre sull'attenti Mentre siamo qui Io penso che andrò A farmi una passeggiata Ora che la strada Qui intorno Sono finalmente meno affollate Anche tu dovresti Rilassarti un pochino Perché non esci un po' con gli altri? Ah Questa devo decidere Con chi uscire ora? Spero tu Stia riposando bene Se hai tempo Potresti venire da me Ho un favore da chiederti E' più semplice Spiegarlo di persona Ottimo Fammi indovinare Una richiesta? Aspetta Prima voglio parlare Con la mia fidanzata Che te ne farsa Della vita oceanica Sofia? C'erano una miriade Di pesci E anche coralli Conchiglie di mille colori E giochi di luce Che ondeggiavano E scintillavano Attraverso l'acqua Oh che meraviglia Felici che ti sia piaciuta Sai L'anno scorso I ragazzi mi hanno accompagnato In una gita speciale Al mare Ricorderò quel giorno Per tutta la vita E' stato allora Che mi sono unita Ai ladri fantasma Sembrano esserci Tutti gli ingredienti Per una giornata Davvero memorabile Ci sono Affiderò queste ultime 24 ore Alla mia memoria In questo modo Potrò custodirle Per sempre Oh brava Morgana Cosa ci fai Qua in fondo Nascosto Ma che Che ci fa Quel cartello qui Cosa hai trovato Aspetta Scusami un attimo Morgana Prima Allora Visto che quella è missione Vado da Makoto Ci sono solo loro Ah no C'è anche Anna E Zenkishi E Ryuji Ehi voi tre Che ci fate qui Oh Phoenix Posso chiederti un parere Lo troverai un po' infantile Ma Dato che siamo in spiaggia Ho pensato che Mi piacerebbe provare Il Suikawari Quel gioco in cui Devi spaccare a metà Un'anguria D'abbendato Sembra divertente Davvero Sai Con la mia famiglia Non ho mai avuto L'occasione Di fare una vacanza Al mare Quindi Non mi è mai capitato Di giocarci Quando ero piccola Spaccare a metà Un'anguria Sembra divertente Vorrei osservare Davvero Sofia Mi fa piacere Sentirtelo dire Sembra che Makoto Stia cercando una scusa Per farlo questo E a me farà piacere Aiutare con i preparativi Se vorrai Ti occorrerà un'anguria E una benda Vero Mi servirà qualcosa Per coprirmi gli occhi E una specie di grosso bastone Giusto? Ora che il piano È a buon punto Inizio a essere un po' tesa Forse dovresti fare pratica Nella prigione Prima di mettere a frutto Quelle tue capacità Una volta che avrai Spaccato a metà Un numero sufficiente Di ombre Un'anguria Non dovrebbe Inetterti Più in alcuna ansia Di solito Non le spacco a metà Ma fare un po' Di riscaldamento È comunque una buona idea Forse dovrei inviare una richiesta Per procurarmi l'anguria Scusa se può sembrarti shock Phoenix Ma spero Che vorrei secondarmi Va bene Accetterò la tua richiesta Allora Oh che bella immagine Gi Dunque Phoenix Questo logo Rimarrà nel tuo cuore Giusto? Si vede Oh brava Sofia Andiamo anche da Anna, Zenkishi e Ryuji Uh Una nuova ricetta Che profumino invitante Magari mi fermo qui E ordino qualcosa Ehi Ti stavo aspettando Phoenix Visto che siamo qui Non possiamo non mangiare la soba di Okinawa Cioè io Ne ho già mangiato una porzione Ma posso tranquillamente Farne fuori un'altra insieme a te E poi Se ci metti anche questa salsa Salsa Cure qualcosa Vabbè Questa roba piccante Sì insomma Potrei mangiarne quintali Beh Ne ho messo troppa Mi sono goduto il soba di Okinawa Insieme a Ryuji Mi sento ispirato Mi piace andare alla ricerca Di ingredienti e ricette Certo Non è lo spirito di Persona 5 Ma è una cosa tanto diversa È stato grandioso Penso di aver riso abbastanza Per due vite intere Ah già Prima ho trovato questa splendida conchiglia Ho pensato che avrei potuto legarla A una collana Come il mio souvenir personale Ma è venuta così bene Che ho pensato di darla a te E se ne facessi una Per ciascuno di noi Andrò a cercare altre conchiglie Collana di conchiglie Uh Collana di conchiglie Annulla in fiamme Ok carino Vediamo invece Zenkichi e Ryuji Che cosa si dicono Ah la schiena mi sta uccidendo Avrei dovuto rilassarmi di più oggi Vado a stendermi Voi altri avete senza dubbio Energia e sufficienza Per occuparvi della cena Ecco prendete Andatevi a comprare una bibita O qualcosa che vogliate La mancia ci ha dato Grazie Zenkichi Ehi Ryuji che cos'hai? Oh cavolo mi fanno ancora male i fianchi Era o non era la miglior venere Che abbiate mai visto il nonnetto Che hai detto? Vuoi che ti mostri di nuovo Quelle tecniche di sottomissione? No 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 Ti prego no Diamine Voi mocciosi siete incredibili Anche tu hai qualcosa da dire È stata un'idea di Yusuke Infatti Noi ci siamo limitati a guardare Ehi E' un vostro amico E non fate i santarellini Che anche voi fareste una cosa simile Beh il sole sta per tramontare Dovremmo piantarla con gli schiamazzi E cominciare a preparare la cena alla svelta Beh questo è vero Però ho una richiesta da parte di Makoto prima Dove sta il mio camper? Voglio solo Giusto per curiosità Vedere se entriamo nel camper Se ci Come si dice Se ci fanno vedere tutti quanti in costume Oppure vestiti Sono tutti in costume Che cosa carina Ah eccolo lì Quello è l'ombrellino che ci ha regalato La figlia di Zenkichi Carino Grazie a tutti Grazie a tutti